ciao ragazzi come state spero tutto bene allora per oggi dovete scrivere su un foglio word la mia famiglia quindi descrivere la famiglia nome cognome anni e poi descrivere se è com'è fisicamente e com'è di carattere ogni persona che descrivete ad esempio scrivete questa è la mia mamma questo è il mio papà questo è mio fratello questo è questa è mia mamma ok cioè utilizzate anche il familiare il vocabolo della famiglia quindi mamma papà fratello sorella nonno nonna materno paterna cugino cugina zio zia e poi me lo mandate per il ducai buon lavoro ciao